Ben trovati con l'informazione a cura di meteocalabria.net. Sulla nostra regione continua ad affluire aria decisamente fredda da nord, seppur in un contesto più stabile, quindi la tendenza al miglioramento. Giovedì 6, sereno su quasi tutta la regione, salvo qualche nuvola sulla bassa Calabria, ma comunque improduttiva. Giornata fredda per venti forti di tramontana, mari in genere molto mossi, agitato il medio basso Ionio. Tempo stabile anche per venerdì 7 febbraio, temperature diurne in ripresa, ma tanto freddo nottetempo, con la possibilità di gelate diffuse nell'interno. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, appuntamento.